Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrei innanzitutto fare complimenti a chi è intervenuto prima, ai coordinatori MCP locali. Voi siete una realtà che è da seguire, soprattutto per i coordinatori provinciali come me, che devono creare i vari gruppi locali. E' uno, un modello veramente da seguire, come hanno detto già molti, Alberto ha fatto un lavoro bellissimo, è veramente grande. Ha seguito paese per paese i vari gruppi locali facendo di crescere, tanto responsabilità ai ragazzi. E questo è un modello da seguire, perché così si riesce a portare i giovani a seguire la politica, anche portarli nelle sezioni, in modo poi da creare il futuro segretario di sezione. Perché secondo me i futuri segretari di sezione servono noi, dopo 5-10 anni che si è in lega, si è il dovere, ma anche comunque la forza di diventare segretario di sezione. Quindi complimenti ad Alberto, faccio un grandissimo bocca al lupo a Flavio, che è veramente un fratello che voglio sia avere per quanto riguarda l'amicizia e per quanto riguarda tutto quello che ci ha unito alle MCP. Grazie a tutti. Grazie.